Il nostro presidente... Muoviamoci è il titolo scelto dal gruppo Giovani Imprenditori di Un'Industria Treviso per l'annuale assemblea associativa svoltasi nei giorni scorsi negli spazi dello storico stabilimento Ex Pagnossini. Un titolo che suona come un'esortazione lanciata dal presidente degli imprenditori Under 40 di marca, Alessia Forte. Muoviamoci è un titolo esortativo innanzitutto verso di noi imprenditori. Noi giovani imprenditori amiamo metterci in discussione ogni giorno per poi affermare noi stessi e i nostri obiettivi e andare avanti. Muoverci necessariamente in avanti. Gli obiettivi sono chiari, strategicamente però ci arriviamo. Stare fermi paradossalmente oggi vuol dire andare indietro e per noi e per le nostre imprese è impensabile. Un messaggio forte per un territorio che vanta una grande traduzione industriale sulla quale ora è necessario investire per innovare inseguendo la frontiera della manifattura 4.0. Oggi bisogna mischiare la tradizione con la capacità innovativa che abbiamo verso l'industria 4.0. Ieri è stato presentato il piano Italia 4.0 che dà tantissime possibilità alle aziende che vogliono innovare. Questo è il momento di raccoglierle perché grazie all'innovazione il Made in Italy può essere ancora più forte e internazionalizzato. Innovare la tradizione è la stregua di quanto fatto, ad esempio da Damaso Zanardo, proprietario del capannone in cui è stata ospitata l'assemblea, uno spazio sottratto alla storia industriale della marca trevigiana è restituita a nuova vita grazie ad un importante lavoro di ristrutturazione con l'obiettivo di farne un luogo aperto ai cittadini. Abbiamo creato un sito che si chiama Open Dream da poco tempo e dove vogliamo raccogliere e invitare anzi tutti a fornirci delle idee. Credo che oggi ci sia possibilità di ripensare questo luogo magari il mio desiderato sarebbe ripensarlo per un utilizzo dove la persona sta al centro. Condividere le idee per crescere insieme è un obiettivo perseguito anche dai giovani di un'industria treviso che hanno cominciato i lavori dell'assemblea organizzando degli incontri B2B tra imprenditori. Dei faccia a faccia di 10 minuti ciascuno sul modello degli Speed Date ambientate all'interno di auto o smart utilizzate come piccoli uffici per intessere nuove relazioni e conoscere possibili partner produttivi e commerciali. Uno stimolo ad accendere il dialogo grazie anche alle suggestioni sulle nuove strategie di imprese avanzate dall'ospite d'onore dell'assemblea, l'esperto di comunicazione multimediale Marco Montemagno. Il primo posto dove bisogna muoversi è il posto di quello che uno pensa sia il futuro invece è il presente che è il mondo digitale. Il primo step da fare è mi muovo nel digitale. Ci sono aziende che non cambiano e aziende che cambiano. Le aziende che cambiano oggi colgono le opportunità del digitale. È chiaro che è un mondo complesso, difficile per alcuni ma se ti sporchi le mani e cerchi di capire esattamente come funziona in realtà tutte le opportunità nuove sono lì. Internet logora chi non ce l'ha, è bene ricordarselo.